Nelle segreterie dei comuni interessati alle elezioni amministrative del prossimo 5 giugno da questa mattina e sino alle ore 12 di mercoledì prossimo è possibile presentare le liste dei candidati al Consiglio Comunale e delle collegate candidature al Sindaco. Nella tarda mattinata di oggi a Favara nessuno dei responsabili politici locali si era ancora recato al Municipio per depositare l'elenco dei nominativi da sottoporre al vaglio degli elettori. L'aver disertato il primo giorno di questo appuntamento con la presentazione delle liste lascia capire che tra i contententi c'è ancora qualche dettaglio da definire per la chiusura definitiva delle liste. Ricordiamo che a Favara le candidature ufficiose al Sindaco, cioè quelle emerse in queste settimane perché annunciate dagli stessi interessati, sono momentaneamente sette, ovvero Anna Alba del Movimento 5 Stelle, gerlanto nobile della lista civica Noi amiamo Favara, Gabriella Bruccoledi, sostenuta da PD, NCD Area Popolare, Sicilia Futura e altre liste, Gaetano Iroh, espressione del centro-destra, Antonio Palumbo di Favara per i beni comuni, Angelo Casà della lista Ora basta ora basta e Antonio Valenti, sostenuto da liste civiche. Ancora è presto per capire se mercoledì prossimo, ultimo giorno per legge, nella segreteria del comune di Favara saranno depositati questi sette nominativi. Non si esclude che possano aggiungersi altri, così come potrebbe succedere all'opposto, ovvero che qualcuno degli ufficiosi possa fare un passo indietro. Intanto continua il sondaggio chi vorresti come sindaco di Favara. Sono già oltre 2000 i possessori di un account Google che hanno manifestato la loro intenzione di voto sul nostro giornale online siciliatv.org. La situazione dei sette candidati sindaco proposti nel sondaggio è in continua evoluzione. Sino a questa mattina il candidato che aveva ottenuto il maggior numero di click era Anna Alba, seguita da Gaetanero e subito dietro Gabriella Bruccoleri. Più distaccati gli altri aspiranti sindaco. Cresce anche il numero dei partecipanti al sondaggio che hanno scelto l'opzione Nessuno di Loro o Altri. Il sondaggio continuerà anche nei prossimi giorni. Naturalmente sarà nostra cura rendere noti i risultati che ricordiamo essere prettamente statistici.